Quando mio figlio è tornato a casa un giorno dalla prima elementare, anzi la primina, aveva portato a casa uno dei compiti ed era un foglio a quattro con dei disegni e degli schemi. In questi schemi c'erano delle frecce con degli spazi per scrivere le parole e il suo compito era di dare il nome, mettere le etichette a tutte quelle parti, erano parti del corpo e rispettivamente erano parti dell'apparato sessuale maschile e femminile. Quindi già dalla prima elementare in Australia si comincia a fare educazione sessuale. Ora mio figlio ha fatto i primi 12 anni di scuola in Australia e ogni anno in qualche modo veniva riproposta l'insegnamento dell'educazione sessuale. Naturalmente quello che hanno fatto fare i bambini alle bambine di 5-6 anni era poi molto diverso da quello che hanno fatto più avanti quando erano adolescenti. Ma questo per dire che nelle società che non vengono controllate dalla chiesa cattolica dove l'educazione sessuale è un tabù così incredibile che si ha pure paura a pronunciare la parola educazione sessuale e quando in qualche modo si cerca di farla si chiama educazione all'intimità, educazione ai sentimenti, educazione all'affettività, quando invece si chiama educazione sessuale. La parola sessuale non è una parolaccia, si dovrebbe dire tranquillamente, si dovrebbe normalizzare la sessualità. Forse è proprio questo il problema. Comunque nella società italiana che non permette nemmeno che ci siano delle macchine automatiche che distribuiscono i profilattici preservativi per evitare gravidanze è proibito metterli dentro le scuole, mentre in altre società questo non succede. Ripeto, in Italia si vivono pesantemente le pressioni esercitate politicamente dalla chiesa cattolica che gode ancora di molti privilegi che non sono solo economici, nel senso che la chiesa cattolica non paga le tasse sulla proprietà che invece noi comuni mortali dobbiamo pagare e tante altre cose. Gode anche ancora di benefici proprio politici che decidono come ci si debba comportare in questo che, almeno per quanto mi ricordo io, è un paese laico anche se poi a guardare nelle aule scolastiche dove pende il crocifisso una persona potrebbe anche avere dei dubbi.